Vi faccio la recensione di Archive 81, come lo direbbe colui che non saprebbe l'inglese. Colui che non saprebbe l'inglese. Un ragazzo che ha anche una bella faccia, mi piacciono gli attori come questi, no? Cioè gli attori che non sono il bel figo, nero, muscoloso, no? Questo è un ragazzo normale. Scusate, abbasso perché ci parlo sopra. Mi è piaciuto molto la prova all'attore, quello lì, e lui mi è piaciuto molto. Mi è piaciuta tutta l'atmosfera. E chiaramente ho subito tantissimo il fascino delle VHS, le mini DV, il restauro delle cassette audio, il restauro di tutte queste cose. Colui che non saprebbe l'inglese. Esatto, sono io. Colui che non saprebbe l'inglese. Mi è piaciuto tantissimo tutta l'atmosfera. Mi è piaciuta lei. Lei la trovo non solo brava, anche figa. Scusate. Questa è una recensione assolutamente maschilista. No, mi è piaciuta lei, tutto. E devo dire la verità, a un certo episodio, non ricordo se il terzo o il quarto, le atmosfere erano così angoscianti, fatte bene, bella fotografia, che a un certo punto ho avuto anche paura. Cioè, un paio di momenti di ansia me li ha creati. Ma proprio leggeri, leggeri. Ma sto parlando di un episodio. Per esempio, mi inquietava moltissimo questa statua che loro venerano, eccetera. Adesso non vi dico altro perché non voglio, non voglio... Chiaramente, avevate visto il trailer, non è spoiler. C'è di mezzo una sorta di congrega. Ecco... Parafrasando Thomas Cheolin, che ha usato il termine perfetto, a un certo punto, ragazzi, va tutto in vacca. Va tutto a puttane. È il più grande esempio di un lavoro iniziato bene e finito male. Nel senso che è estremamente bello il fatto... Cioè, come viene raccontato la trama. È proprio bello perché è un misteri. È proprio... Ha i classici meccanismi del misteri. E ti svela piano piano delle cose, ma è veramente molto curato da questo punto di vista. Poi a un certo punto... Scusate, qua... Che cazzo vuole questo? Poi a un certo punto... Si apre un... Si apre... Basta, cade il... Cade il... Cade tutto. Cade il tutto... Non so come si chiama quello che nasconde il sipario. Cade il sipario. E dietro vedi tutto. Vedi... Come mai è lì? Perché è lì? Perché quello è morto? Perché quell'altro è morto? Dove è andato? Cosa ha fatto? Scopri tutto! Nelle ultime due puntate, tre puntate, scopri tutto e diventa una noia mortale perché è una didascalica rappresentazione della più banale delle trame. Ed è veramente una grandissima rottura di coglioni, con effetti speciali di mia nonna in carriola, orripilanti, che però posso giustificare a fronte di una bella storia, una bella trama, qualche effetto speciale di merda lo posso giustificare. Ma veramente va tutto in vacca, va tutto... Cioè, non riesce a mantenere assolutamente la suspense fino alla fine. Cioè, a un certo punto perde tutto. Ti cascano le palle. Ti cascano... Scopri tutto, ma non solo scopri tutto. È tutto così poco misterioso, alla fine? Cioè, il contrario di come parte la serie. Cioè, la serie parte molto bene, ma inizia... Ma sono d'accordo con te, psico-cine. Parte veramente alla stragrande. Io avevo... Mi stavo... Mi volevo mangiare per la felicità. Perché mi piacciono le cose... Alla Shining, cioè il personaggio che diventa scemo in un posto da solo. Il personaggio che, in qualche modo, è collegato col mistero. Mi piacciono i piani dimensionali, mi piacciono un sacco di cose. Però, cioè, deve rimanerci... Deve rimanere del mistero. Deve rimanere qualcosa dove io costruisco dove manca. Invece è tutto esplicitato e quasi raccontato come... Cioè, io non so che... Secondo me c'è stato un cambio di mano lì, è un cambio... Tipo che il regista si è incazzato con qualcuno. Il regista, il sceneggiatore... Preso se ne sono andati, ha messo la cugina e il fratello di qualcuno a fare il resto. Perché veramente... Sembra la fiction... Sembra la fiction di uno che dice che è stato posseduto, no? Fanno il programma TV. Sapete quei programmi TV dove viene intervistato? Sì, sono stato posseduto, eh, ho sentito... E poi dopo ci sono... L'intervista è tagliata, è inframmezzata da degli... Delle scene fiction che rappresentano ciò che è accaduto. Ecco, è uguale, è uguale. Cioè, viene fatta la fiction degli eventi paranormali che fanno parte di questo film. Di questa serie. È veramente un peccato. È veramente un peccato perché... Tanti aspetti di questa serie sono belli. Come appunto la scelta degli attori che non sono i classici Barbie e Ken. Ma sono persone non brutte, non belle, non malissime. Mi è piaciuto tantissimo il personaggio protagonista. Perché è molto schivo. È molto sulle sue. E non è simpatico. Però a un certo punto inizia ad apprezzare il suo essere riservato. Il suo essere una persona per bene. Una persona non superficiale. Quindi lo inizia da... Invece tanti film, tante situazioni tendono a proporti il personaggio o estremamente figo o estremamente simpatico. Invece questo è proprio... O qualcuno potrebbe anche stare sul cazzo. È una personalità più credibile. Ci sono tanti personaggi... Anche la ragazza che lui cerca nel film ha un bel carattere. Ha un carattere ben definito. E queste non sono cose da poco. Perché molti film, molte serie funzionano proprio quando sono ben costruiti i personaggi. Quasi poi i personaggi si muovono da soli a quel punto. Quasi costruiscono la storia. Talmente sono scritti e definiti bene. Quindi è il problema dell'80% delle serie. Inizia bene e poi si rovina tutto. Per fortuna erano solo 8 puntate. Sì, ma infatti questa è la classica serie tv che mi ha fatto proprio cascare le palle. Mi ha fatto dire cazzo ho buttato 3 serate. Sono stato fino alle 2 a guardare sta roba ragazzi. Poi io alle 7 mi alzo. Però sono cascato nel tranello. Perché l'ho messa su. Perché ho comunque attratto dal discorso delle videocassette. Perché comunque hanno il loro fascino per me. Che sono un vecchio. Poi la serie partiva bene. Ha veramente delle cose di qualità. Musica, fotografia. Tutto fatto piuttosto bene. La scrittura sembrava dignitosa. Ragazzi, ma anche l'amico di lui. Vabbè, non dico niente perché. Non dico niente perché sarebbe spoiler. Finisco qua. Secondo me è una delle cose peggiori che potevano uscire. È proprio una roba che mi potevo aspettare dagli inizi di Netflix. Perché questa è una produzione di Netflix. E si vede alla fine. Alla fine si vede che è una produzione di Netflix. Mentre all'inizio vuole essere molto autoriale. Poi cade proprio negli errori più semplici. Peccato. Perché a questo punto preferisco che non dici un cazzo. Cioè tu mi lasci con il vuoto. E sono io che costruisco un mondo fantastico. E ti dico, cazzo hai fatto una bella serie. Non mi hai detto una fava. Perché è quello che fanno tantissimi grandi registi. È suggerirti qualcosa. Poi lo costruisci tu il resto. Non si fa così. Non si fa. Non si fa. Tra l'altro ho trovato anche mal ricostruite le scene ambientate in altre epoche. Flashback diciamo. Ora stiamo guardando Yellow Jackets. Ma non mi sta convincendo anche se c'è Juliette Lewis. Eh ma ragazzi ma le serie sono un pericolo ambulante. Io ve lo ridico. Allora ho ho da fare un articolo lì nelle bozze. Ancora non l'ho iniziato. Però me lo sono segnato. Sono due articoli. Sono le migliori serie tv Netflix e Amazon. Lo avevo fatto per i film. Gli articoli sono piaciuti. Sono andati bene. Li ritengo ancora attualissimi. Poi chiaramente se li leggete e volete suggerirmi l'aggiunta di qualche film. Se lo ritengo anch'io. Fatemelo sapere che lo aggiungo. O eventualmente lo tolgo se non è più presente su Netflix. O su Prime. Voglio fare la stessa cosa per le serie tv. Perché ci sono delle serie tv che in realtà spaccano il culo. Chiaramente non sto parlando di gusto personale. Cioè non è questione di gusto. È questione di quanto una serie può essere, non dico innovativa, ma tentare di esserlo. E io penso appunto, come Ricc e Morti, ma infatti. Chiaramente io sto parlando di serie tv horror, chiaramente. Scusate. Poi ci saranno tantissime serie tv non horror valide. Per cui, per fortuna, io mi occupo solo di horror. Sennò diventerai scemo a guardare tutto. Sennò diventerai scemo a guardare tutto.